Non so se dovrà di fare l'interdittura. Sì, non è venuta? Sì. Noi siamo lì, meccanissi. Porta è già. Piazza, parataglia. Guadagniamo francosamente il nostro spazio di piazza in mezzo a quadrate legioni di bagnanti. In mezzo ad effluvi di creme protettive, di creme solari, di abbronzanti, di lardo di balena, di lardo di foca, lardo di elefante marino. Ecco, come si può vedere, purtroppo è pressoché impossibile trovare uno spazio libero se non in piedi. con una certa statistica, alcune centinaia di gommoni stanno cercando di ammarare faticosamente, ma in sostanza sono riusciti a creare uno strato di circa 16 metri di gomma gonfiata e, dall'altra parte, alcune centinaia di bagnanti vestiti in acqua pensano disperatamente di riguadagnare la vita, mentre i presidiari della spiaggia li respingono con perte. E' una giornata di locca qui a Meganesi per conquistare l'agoniato più centimetro di piaggia. Siamo qui in diretta, vi aggiorneremo sull'evoluzione della situazione nel corso della giornata. Qui, Radio Ciccio. Arrivederci.